L'importante è che uno abbia rispetto dell'altro, poi non c'è distinzione a casa nostra. Ma sinceramente penso di Libra, di trascetta, volevo, c'è Libra che uno può fare. Però poi sentiamo il giornale contro il racismo e contro l'omofobia, mi pare che lui di sorgita c'è bene, non devo stare facendo. E' tutto ciò che è il giorno, è 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 tutto ciò che è il giorno. E' un momento del sole che deve essere ogni tanto per far sapere all'azienda che i racismo non lo risolvano niente, l'omofobia non lo risolvano niente. I tre distribuiti sono per tutti, che sia italiano, Libra, francese, tutti quanti. Dobbiamo continuare questa battaglia perché in realtà è molto importante, però se si è da oggi, è di domani. Ormai il mondo è così, solo la menetta dell'inministrazione e così sarà sempre così. Liberi tutti 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 Diciamo che c'è una voglia di cambiare, una voglia di sentirsi libero, gli anziani anche quando facciamo campagna di pubblicizzazione vediamo che sono quelli che hanno una reazione molto più accogliente rispetto all'argomento. Il ragazzo di oggi è in questi momenti, è totalmente deprivato da mani definiti e da quello che tutti cercano di tirarci del genere. Tutta la cosa che mi rende contente e già mi connotato nella manifestazione di Cagliari è che la popolazione è eterogenea e diversificata e sono davvero qui tutti insieme, bambini, bambine, lesbiche, gay, trans, bisessuali e dentro, tutti insieme per urlare stoma l'omofobia. Grazie.